Eccoci Eccoci qua Allora ragazzi siamo tutti Flam, TBRISE Ok ci siamo tutti Possiamo entrare vediamo se va Oh sono entro Il VARC è qui Lo sta fusticando lo sta castigando L'ha distrutto eccolo Eccolo ragazzi Le armature Ma ha distrutto l'handy dragon Eccolo su Colpitelo Ok ci siamo ci siamo Ora esplode quando si è qui va vero Ragazzi chi è vivo Vi prego c'è qualcuno che è vivo No siete caduti Vi dichiaro marito e moglie Cerchi può baciare il GQ Baciate Oh il Wither è quasi morto Cosa succede Anos Oh Dio è morto Oh Dio è morto Come si fa Si ricordo ancora come si fa Oh Dio Oh Dio La talentata Che torna Oh Dio è morto Che torna Che torna Che torna Grazie.